Ciao ascolta, se sei passato da qui, da questo canale, ci sono due cose che ti voglio far sapere. Prima di tutto io non sono una professionista, sono solo una persona che ha frequentato le biblioteche civiche per 45 anni, non avendo la possibilità economica di permettersi molti libri. Vorrei che tu sapessi questa cosa, se ti piace, come leggo, se c'è questo tuo interesse, lo devo alle tradizioni della mia famiglia, tradizioni di miniera, tradizioni operarie che avevano canto e espressione musicale anche, con una fisarmonica, con il pettine, con un cucchiaio, sapevano ora regare le genti nelle osterie e con la voce soprattutto, quindi di mio, di talento probabilmente c'è ben poco, semmai è il DNA che mi permette di fare questa cosa. Io però di mio ci metto tenace e coraggio e spero che le mie letture trasmettano questo alle persone, perché questo canale voglio che funzioni per dare, quindi grazie di essere passato e ti ascolto e ti auguro, scusa la papera, buon ascolto. Ciao!